Ammettiamo che il consumo domestico di acqua sia di 150 litri al giorno per persona. Solo la metà di quest'acqua, pare 75 litri, deve essere potabile. 45 litri per il bagno o la doccia, 20 litri per cucinare o per bere, 10 litri per lavare i piatti. Per tutte le altre attività domestiche si potrebbe far uso dell'acqua piovana. 45 litri per gli sciacqui dei servizi igienici, 15 litri per il bucato, 12 litri per bagnare le piante del giardino o dell'orto, 3 litri per i lavori di pulizia. Va dunque incentivata la raccolta delle acque meteoriche, prevedendo nei regolamenti edilizi, soprattutto per le nuove costruzioni, la possibilità di realizzare impianti che consentano di sfruttare l'acqua piovana in un ambito domestico.